Allora, il camno 95 e 30, ma ci saranno almeno altri tre minuti di recupero perché è rimasto fermo il gioco per uno scontro in aria con Fabian Ruiz che si è aperto la testa, adesso sembra potercela fare. 1-1 fino a questo momento, un gol per tempo, Zelinski nel primo tempo, rigore di Ferran Torres nel secondo, rigore per un tocco di due dita che non sposta niente, però vabbè. Lo prendiamo e ce lo portiamo a casa e vediamo l'assalto finale perché il Barca negli ultimi 15 minuti ci ha messo letteralmente sotto. È vero che non abbiamo cambi, vieni Coulibaly, via. È vero che non abbiamo cambi, però stiamo giocando con Di Lorenzo e Malqui, Juan Jesus e Mario Rui, Coulibaly e Ramani e poi Dem e Fabian Ruiz con Onas dietro a Mertens, stiamo proprio schiacciati. E loro ci stanno schiacciando e per puro caso non hanno trovato il gol del vantaggio perché le occasioni negli ultimi 15 minuti ne avranno avute nitide almeno tre. Anche noi una con Driss, però poca roba. Secondo tempo abbiamo difeso. Meretta. Abbiamo difeso, il Barcellona ha spinto, ha fatto possesso palla, noi abbiamo girato a vuoto, un paio di ripartenze con Victor, ma niente di esaltante nel secondo tempo. Primo tempo invece molto bene perché abbiamo tenuto il campo, abbiamo provato ad aggredirli quando dovevamo farlo e troviamo il gol con una bella azione. È una grande iniziativa di Elmas che ce le ha le iniziative. Io non ho mai detto che non abbia l'iniziativa sto ragazzo, il problema è perché è intermittente. Una cosa buona, sparito dalla partita. Siamo pure in dieci perché il sangue dalla testa di Fabian non si ferma. E quindi dobbiamo pure chiudere in dieci in questi mille minuti di recupero che non finiscono mai. Barsa che continua a spingere. Di Lorenzo anticipa. Vieni Malqui, vieni Malqui, difendi. Siamo in dieci, bisogna difendere. Dai, forza, 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 forza. Allora, poi scendiamo nel dettaglio della partita. Ma se dobbiamo segnalare i migliori in campo, ce ne sono due. Facciamo anche tre. Ma uno è sicuramente Di Lorenzo. Almeno tre chiusure determinanti su Ferran Torres, sempre preciso. Lo perdevano quando si accentrava, ma lo perdevano Ramani e Koulibaly. Però Di Lorenzo ha fatto una partita mostruosa. Grande partita anche di Juan Jesus, che in coppia con Lorenzo Insigne hanno tappato Adam Atraore, che quando parte non lo ferma né uno né l'altro. Ma in coppia sono riusciti a limitarlo, a limitarlo. Quando è entrato Dembélé un po' più fresco, Juan Jesus è stato un po' più di fatica, anche perché non aveva un Lorenzo Insigne fresco, che poteva dargli il raddoppio. Gli è andato Elmas, che in un paio di occasioni se l'è un po' perso. Vabbè. Dai, dai, stringi, 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 stringi Diego, stringi Diego, stringi Diego. Proviamo, proviamo a pressarli, proviamo a pressarli che la perdono. Sì, Driss. Era il fallo. Il tre del Barça fischia la fine. Quindi ci portiamo via un pareggio uno a uno, che non sposta niente, non sposta niente, perché non vale più il gol in trasferta, quindi sarà comunque necessario vincere per passare il turno. Però per come è andata la partita, è un pareggio che ci portiamo volentieri a casa, perché siamo obiettivi. Stasera il Barcellona, forse, anzi sicuramente, volevo non essere troppo, ma meritava qualcosa in più. Hanno fatto un finale in forcing molto importante e non l'hanno trovato il gol del vantaggio per la scarsa vena realizzativa di Ferran Torres, che si è mangiato letteralmente tre gol. Tre gol se li è mangiati intili. Però tornando al ragionamento di prima, dicevamo molto bene Di Lorenzo, molto bene Juan Jesus, bene Koulibaly, Vittor ci ha messo impegno, ma abbiamo deciso di non lanciare nello spazio e non gli abbiamo dato le palle per mettere in mostra le sue caratteristiche principali, perché quando lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto magari sbagliando il passaggio, magari non dandolo nello spazio, ma buttandolo sull'esterno, allora lui doveva girare e fare molta più strada per andare verso la porta, ma la tattica era quella appena avevi un buco, lanciare nello spazio Vittor e non lo abbiamo fatto, ma per scelta credo, perché non è possibile che per tutta una partita tu non lo faccia mai e lo fai solo quando sei costretto. Non va bene, quelle sono le nostre doti. E quindi lasciamo il discorso qualificazione apertissimo, c'è poco da fare. Tra l'altro Dazon ogni tanto ha messo la telecronaca in spagnolo, non si capisce, delle robe strane, la sigla dell'Europa League non c'è. Comunque, ce ne veniamo via con un pareggio che viene con una partita che si sa più una guerra, come aveva detto ieri Fabian Ruiz in conferenza stampa, perché loro hanno voluto fare quello che volevano, quello che volevano, hanno fatto quello che volevano, letteralmente. Le statistiche però ci dicono di cinque tiri a quattro nello specchio della porta e noi quattro tiri, quattro tiri, quattro tiri in porta, loro ventuno tentativi, cinque in porta, hanno sbagliato tantissimo, loro hanno sbagliato tantissimo ed è un pareggio che meritavano di più, loro meritavano di più stasera, meritavano di più, cioè poco da dire. Però, quante volte ci è successo anche a noi di tirare, 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 era una scarsa percentuale di realizzazione, loro il gol hanno fatto su un rigore che, boh, io l'ho visto e non l'ho visto, lo vorrei rivedere, ma parliamo di Juan Jesus che si muove, tocca la palla con due dita, la palla non si sposta, quella palla avrebbe fatto quella traiettoria anche senza il tocco delle due dita di Juan Jesus, per me sono rigori follia quelli, però, l'hanno chiamato al bar e gliel'hanno dato, vabbè, pazienza, un rigoraccio ma, prendiamolo con filosofia. Prospettive per la gara di ritorno, allora, intanto il gol in trasferta non esiste più, quindi, non vale un cazzo il gol che abbiamo fatto, vale semplicemente per il discorso che, ci giocheremo la gara al Maradona, in cui comunque bisognerà vincere, perché in caso di pareggio con qualsiasi risultato, si andrà ai supplementari e poi ai rigori, quindi, comunque non sposta niente, devi vincere per passare il turno, ed è bello anche che sia così, finalmente, perché 1-1 e 0-0 passiamo noi, o 1-1 e 2-2 passano loro, mi sembravano comunque delle fesserie, che finalmente la UEFA, la FIFA o chi per loro hanno sistemato, quindi, bisogna vincere, perché nel calcio serve vincere, per passare i turni, e quindi, al Maradona, dovremo fare un gol più di loro per passare, oppure andare a giocarci ai supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore, ma è un discorso che affronteremo più avanti, c'è però qualcosa da dire, perché, qualche scelta, in tanti cambi, tardivi, io non capisco se Spalletti, non si fidi di alcuni, non li vede in forma, però i cambi andavano fatti un po' prima, perché quando il Barça ne ha messi dentro tre, ha cambiato un pochettino, l'inerzia della partita, stava andando a scemare il ritmo del Barcellona, fatti i cambi, il Barcellona è venuto fuori, e noi abbiamo continuato per altri dieci minuti, senza cambiare nessuno, fino a che poi lo stesso Anghissà è morto, non ce la faceva più, speriamo che non sia niente di grave, perché già non c'è lo bot, se ci manca pure Anghissà, a Cagliari andiamo in emergenza, già abbiamo fuori Politano, a Lozano, basta, 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 se ne fa male una partita, torniamo sempre indietro, da questo punto di vista, però, nulla è perduto, bisogna giocarsi in casa il passaggio del turno, prima però bisogna ritornare a pensare al campionato, perché si va lunedì a Cagliari, campo sempre molto ostico, e contro una squadra che comunque è in crescita, dal punto di vista del gioco, e dal punto di vista dei risultati, quindi non molleranno nulla, per poi tornare a pensare, a giovedì prossimo, a quello che succederà al Maradona, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata, ci vediamo nei prossimi giorni, per un approfondimento tra il Barcellona e il Cagliari, cerchiamo di capire anche le condizioni della squadra, in questa giornata e mezza, che ci sarà, per domani magari faranno lavoro di scarico, e poi il vero allenamento sarà sabato, visto che giochiamo lunedì, e speriamo che non si sia fatto male, soprattutto Anghissà, e che il ginocchio di Vittor, non gli dia ancora fastidio, amici stracandidi, buon proseguimento a tutti, vi ricordo come sempre, di iscrivervi al canale, mi raccomando, attivando la campanella e video, in tempo reale, non dimenticate, che il calcio fa bene alle ossa, anche durante l'Europa League, e un abbraccio a tutti.